È ripartita Linea Mica che stavolta però è digitale, è un progetto di alcuni anni fa che rimette al centro il Formez in considerazione della nuova missione, del nuovo ruolo che è stato dato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Sì, Linea Mica viene da lontano, dal 2009 avevamo una rete di network di amministrazione, di 1300 amministrazioni, 200.000 contatti all'anno e un forte impatto anche sulla standard di servizio. Adesso siamo ripartiti con una nuova formula, Linea Mica Digitale, un chatbot di ultima generazione che risponde in particolare in questa fase alle amministrazioni perché quello che manca spesso allo Stato italiano è una capacità di ascolto e di collaborazione fra amministrazioni. Lo Stato è uno solo rispetto al cittadino e dobbiamo fare in modo di essere sempre più compatti e coesi. Quindi non soltanto servizio all'amministrazione ma c'è anche tanto altro che fa Linea Mica. Quali sono le tematiche di cui si occupa in maniera principale? In particolare il piano nazionale di ripresa e resilienza, il piano di formazione, la customer satisfaction su cui stiamo avviando un nuovo progetto che sperimenterà la rilevazione del feedback da parte dei cittadini. Noi dobbiamo rendere i servizi pubblici digitali sempre più efficienti, sempre più capaci di dare risposte in tempo reale senza costi dei cittadini ma dobbiamo anche sapere cosa i cittadini pensano di questo nuovo sistema di relazione con lo Stato. Linea Mica serve a creare un punto di incontro e di rilevazione anche di questa risposta da parte del cittadino. Per fare questo però c'è bisogno che chi è al di qua dello strumento abbia una formazione adeguata. Esatto, la digitalizzazione è un pezzo anche della formazione, non dimentichiamo che la riforma della pubblica amministrazione come dice spesso il ministro Brunetta è il cuore del successo del PNRR e Linea Mica è al servizio di questo obiettivo.